Lo sport non si ferma. Nonostante la crescita dei contagi da Covid-19, le associazioni sportive di Torre del Greco hanno deciso di continuare a promuovere le attività motorie. Stiamo vivendo momenti difficili, abbiamo molte responsabilità ma i ragazzi non possono non socializzare. Lo sport rimane fondamentale. Periodo di pandemia ma palestra aperta. Quanto è importante lo sport e quanto è importante continuare a fare sport? È un momento molto particolare, molto difficile. Io credo che noi abbiamo delle responsabilità. Responsabilità che chiaramente dobbiamo condividere in questo famoso patto di corresponsabilità fra quello che è la famiglia, quello che è la scuola, quello che siamo noi come associazionismo per cercare di creare le condizioni perché i ragazzi riprendano una vita di normalità. Con tutti quelli che possono essere poi le situazioni di non assembramento eccetera. Ma noi abbiamo delle responsabilità. I bambini hanno dei momenti fondamentali di crescita che noi non possiamo perdere e che stiamo invece lasciando così allo sbando. I ragazzi non possono non socializzare, non possono non uscire fuori da quelle che sono le paure nelle quali questa pandemia sta chiudendo questi questi bambini. Noi abbiamo veramente delle responsabilità e il nostro compito è cercare di creare una formazione che ritrovi il modo per questi ragazzi di poter socializzare e poter stare con gli altri bambini della stessa età. Cosa cambia il nuovo DPCM? Cambia qualcosa per quanto riguarda soprattutto le palestre? Questa è una cosa che noi dobbiamo sottolineare. Una delle cose che il ministro e il governo ha cercato di sottolineare è che appunto si fida delle associazioni sportive che come le nostre stanno mettendo in campo tutte le azioni che sono di prevenzione. Per cui quelle che sono le peculiarità del DPCM sono soltanto relative al sport amatoriale, quindi non allo sport dell'associazione che chiaramente agisce in nome per conto del governo per cercare di fare socialità e quindi ha tutte le misure in atto. Si parlava di sport di contatto, si parlava di calcetto, in realtà le associazioni chiaramente con tutte le cautele dovute faranno in modo che i bambini abbiano il minor rischio possibile, quindi continuiamo a credere che i bambini debbano vivere la socialità e quindi insieme alle famiglie, insieme alle associazioni fare un percorso reale di crescita e di formazione insieme. Il governo nel nuovo DPCM ha dato piena fiducia alle associazioni sportive, confidando in una piena applicazione delle rigorose misure di prevenzione finalizzate al contrasto di una nuova curva dei contagi da Covid. Quali sono le misure di prevenzione che vengono utilizzate in tutte le palestre nel rispetto alle regole anticontagio? Tantissime, dall'ingresso che chi come me ha il tappetino igienizzante per le scarpe, poi c'è il termoscanner, c'è il tornello per l'ingresso, dopo ci sta anche la misurazione, di nuovo la misurazione con cognome, nome e tutto, poi si sale sul tappeto, c'è un altro tappetino igienizzante per i piedi, i ragazzi vanno a igienizzare le mani, tra un tunnel e l'altro ci sono dieci minuti di spazio per poter sanificare il tatami o altre strutture per fare sport. Gli attrezzi che vengono poi sanificati sempre, quindi dal pomeriggio fino alla sera tardi, poi il giorno dopo si parte dalla mattina con quello generale, oltre che la sanificazione che facciamo una volta al mese di tutti i locali. La cosa più importante è far capire ai genitori che non devono avere paura, perché la stanno trasmettendo ai loro figli. Io incontro ragazzini che venivano in palestra da me, li incontravo prima per strada, mi abbracciavano, adesso hanno quasi paura, hanno paura, quindi stiamo perdendo diciamo certi valori. Anche le scuole in questo periodo stanno facendo salti mortali per non creare troppa folla in classe, quindi stanno cambiando i loro orari. Come questo cambio di orari va a inficiare sul tempo libero dei ragazzi e quindi anche sulla loro possibilità di prendere parte a sport o a palestre? Noi quest'anno abbiamo visto una notevole riduzione della partecipazione ai nostri corsi di danza. Tra l'altro fortunatamente abbiamo anche tanti ragazzi che comunque hanno voluto continuare il loro percorso anche professionale come formazione di danza e che però hanno avuto moltissimi problemi relativi anche alla gestione degli orari scolastici. All'interno delle nostre scuole c'è molta sicurezza ma c'è stata anche tanta voglia di gestire le lezioni in base alla disponibilità che questi ragazzi hanno di poter fare sport. Per esempio io ho dei miei allievi che in pratica ogni 15 giorni fanno turni pomeridiani scolastici e la nostra scuola si è reinventata con dei turni mattutini oppure per i più grandi con dei turni in serata in modo che i ragazzi possano andare sia a scuola ma possano comunque continuare un percorso che fa bene alla loro formazione psicologica, fisica. Io, Sandro, Diego, tutti noi siamo un chiaro esempio di come lo sport non può essere veramente un'attività da prendere sotto gamba perché noi abbiamo fatto della nostra passione il nostro lavoro ed è ciò che proviamo a trasmettere a tutti i nostri ragazzi. In più per tutti quelli che lo vogliono fare per stare bene con se stessi, per stare bene fisicamente e tutto, anche per loro ci deve essere l'opportunità di continuare assolutamente con questa cosa. Quindi vogliamo far capire veramente ai genitori che in questi contesti non bisogna avere paura di portare i propri figli. Ci teniamo alla loro sicurezza, alla nostra, dei nostri collaboratori sportivi per cui invitiamo e facciamo un appello a tutti voi e speriamo che veramente la paura di questo Covid non fermi genitori e ragazzi nel voler formare i bambini anche e soprattutto nello sport e in tutte le attività anche pomeridiane.